Allora, benvenuti in un'altra puntata di Unstarted Multifettatura. Abbiamo trovato un giocatore. Ho ho! Fissaria? Fissaria? Ehi, signore! Come l'ho detto? Io vado, comunque. Perché non vado? Eh, beh, ce l'avevo acquisito e... E purtroppo l'ha rotto! Eh, ma non l'ho fatta forza. Eh, ero stato l'ho fatto dei... Ah, fissaria di... Oh, ma... E fissi che cosi! ...di casami, ma... Io lo so, è uno perfuma. Ecco, qui c'è la broma! Ma... E poi diceva... Ah, di cosa lo diceva? Ah, è vera! Oh! E mi diceva che... Oh, è vera! E' vera! Eh, ove le ove le... E' vera... E' vera! E' vera! E' vera! E' vera! E' vero! Amica, amicchio! Ma chi ha fatto a morire questo qua? Eh ma non è che è un livello facile! Nonchia! 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 Perché fa quel segno? Io non lo capito! Si muove e scollegato! Non doveva succederebbe! Capito! Sì! Sì! Oh! E muoviti tre ore però! Eh! Scappa! Eh! Tu la cresti! E invece io! Scappa! Ah! Ah! Grazie a te! Eh! Grazie a te! Iiii! Va bene! Corbatta quello che faccio! Spuaki! Si muo accelera! Waaah! Mena! Mena! Ciccirlo! Bravo! 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 Cioè! Nooo! Se ti spegni il pochino ecco che... Mi devo costare tre ore ma! Guarda come si fa! Accelera! C'è un po' di scoperta! C'è un po' di scoperta! E poi dovevo fare... ...mi spostamenti del cazzo! C'è un po' di scoperta! Prezzo! Ahah! Pregato! Aspetta! C'è un po' di scoperta! Ho un'idea! Ho un'idea! Il Madonna! No, che cosa è passato a questo computer? Non mi ha detto che non è possibile andare a questo computer. Io volevo dire che si diceva in quale canzone, per non sporcare la teia, la direzione. Ma se ti scatta la topi, non vedo! E' un corno, la batteria! E' un corno! 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 La batteria! E' un corno! E' un corno! C'è un corno! E' un corno! Ma chissà quando tempo staremo pure noi, andiamo tra il sacco della sala al pochino. Cagliosi non lo sa, no? Perché la chiave è diversa dal sacco, quel figlio. Perché se vuoi essere disegnate la chiave a scrivere. Staccherebbe finito. Allora, proviamo con l'altro sacco. Chissà, facciamo accettare questo flusso. E ora per accendere. E' vero, certo lo fa a bimbi proprio. E non so che ci fa a rispondere a quello che sta. Non per il motivo che ci fa perché ha passato le cose da dentro la mano. E' vero, non so. E ci stanno, ci si deve essere che mi deve andare a fare. Cosa è la cosa? Perchè? Perfattare il disco. Prima di più, quello stupro che va bene. E' la stupenda. Non è proprio giù. Perché? Perchè? 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 Oh! mamma mia un'idea solo che ma non ha avuto i toghi no 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 oh ma vangu ma se pretò tu li vrei chi sa i gossi ma Oh, 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 oh. Oh, e fatevi riparare, incominciamo. Dai Tan, vi ne do. Poi vedete che mancò una pallottola riuscirò a sprecare. Momt. Madonna, muoviti. Bravo, io lo sapengo, io lo sapengo. Perché me lo sono un fregato io. Sì, mi sono fatti così. oh oley oh no 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 vabbè che Kanital XVI sì 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 valorizzli Disgraziato! Disgraziato la maglia! Lei ha avvicinato! Vedi? Spara dove sta il luprofine! Vodò! Un mostro! Sta pure nel fuggile di precisione! Ah, è finito! Tanto se lo frega lui lo so già! Ah no! Stai dall'altra parte ragazzo! Oh! Papaschetta! Oh! Il Madonna è stato! Oh! Oh! Il Madonna è stato! Oh! Oh! Sto cretino! No! Spara me! Spara me! Spara me! Tu! Ma dove sta? Tu! Ah! 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 Non mi vuoi prendere più! Ciao scemo! Vola nel cielo! Lo uccito io ragazzo! Oh! Oh! E' saltato! Oh! Ebbene a muri! Il Madonna! Eeeh! Un osso è stato affocando! Vado sta muorendo! Chissà chi deve salvare! Ma salvate a quello! Salvatemi! Uccidetemi! Cioè! Fucilatemi! Ma salvatemi la vita! Ah! 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 Eeeh! Uscitevi pure a me! Io vado! Vado! Ah! Non è uscito! Secondo me quello l'ho fatta apposta per farmi uscire! E' uscita molto a me! Oh! Oh! Che bello! Ah! 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 Posa vedi? Cosa vuoi? Ah! 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 Abbiamo piangato! e dai no bravo bravo scoppia vatti uscite magari a tuo move oh oh questo era il finale che stava uno là sopra e uno la magari a tuo move e dai vai